Abbiamo visto, nella storia del motociclismo, piloti dominare letteralmente il campionato, come Rossi e Marquez, ma ci sono piloti che hanno vinto il proprio mondiale senza conquistare nemmeno una vittoria, ed è successo ben tre volte. Buongiorno e bentornati su Paddock, il canale che parla di moto e non solo. Vi volevo ringraziare ancora una volta per l'accoglienza dedicata ai primi tre video, che è stata veramente incredibile. Quindi vi invito a mettere un mi piace a questo prossimo video, ad attivare la campanina e iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi contenuti. Volevo anche invitarvi tra l'altro ad indicare qua sotto nei commenti cosa vorreste vedere nel canale, storie, idee di qualsiasi cosa che avete in mente, su moto, piloti, gare, tutto quello che vi viene in mente, indicatelo qua sotto nei commenti. Quindi andiamo subito con il primo pilota. Manuel Herrero Scasas, detto Ciampi, li lascia a Villa Robledo il 20 aprile 1963. Lo spagnolo esordisce nel moto mondiale nel 1984 su una MBA 125, con sei punti conquistati al GP di Spagna a Jarama. Nello stesso anno fa la sua pirazione nella classe 80, con una derby sempre nel GP di Spagna, ritirandosi in gara. Nel 1985 viene ingaggiato dalla derby, nella classe 80, come compagno di squadra di Jorge Martinez, cogliendo un secondo posto al Mugello e due terzi posti a Jarama e al GP di Jugoslavia. Nel 1986 arriva la sua prima vittoria al GP di Germania, arrivando di avanti a Stefan Dolflinger. Inoltre conquista due secondi posti nei GP di Austria e Olanda e tre terzi posti nei GP di Spagna, Monza e San Marino, che lo fanno arrivare a fine stagione al secondo posto in campionato. L'anno seguente, sempre nella classe 80, arriva ancora secondo in campionato, conquistando la sua seconda e ultima vittoria in carriera al GP di San Marino. Arriva inoltre tre volte secondo nei GP di Monza, Assen e Jarama. Nel 1988 arrivano due terzi posti, a Imola e al Nürburgring, e un secondo posto a Jerez, arrivando quarto in campionato. C'è da segnalare anche la sua partecipazione nella classe 125, conquistando un secondo posto, sempre ad Imola, con la quindicesima posizione finale in campionato e 30 punti conquistati. Ma nel 1989 arriva la magia. Dopo cinque dei sei appuntamenti dell'80, al comando della classifica c'erano Peter Ottel, con Krauser, e Manuel Herrero su Derby, con 75 punti. Il tedesco aveva vinto tre volte, mentre lo spagnolo aveva ottenuto tre secondi posti. In Lizza c'era pure Stefan Rolflinger, su Krauser, con 69 punti. Un degno epilogo per la classe 80, che proprio con la gara di Bernou, il 27 agosto, andò definitivamente in archivio. Inizia la Krauser sbagliata, quella di Henry Torontegui, con quasi 19 secondi su Herreros, soltanto quinto in griglia, che fu scartato sul podio dall'altra derby di Jorge Martinez. Pur scattando dalla pole, Dolflinger finì quinto, mentre Ottel cadde. Senza conquistare un solo GP, Herreros vinse il titolo, con 12 punti sullo Svistero e 17 sul tedesco. Da quel momento però, la sua carriera avrà un tracollo. Dismessa la classe 80, carecce in 125 con una JJ Cobas nel 90 e 91, con gli Enou un solo risultato a punti in due stagioni, con il decimo posto al GP di Spagna 1991. Dopo il GP di Germania 1991, arriverà al suo ritiro dalle competizioni. Terminata la carriera, Herreros ha aperto una scuola di pilotaggio e gestisce un team nel CEV. Emilio Alzamora nasce a Lerida il 22 maggio 1973. L'ex manager dei fratelli Marquez è il caso più conosciuto di campione del mondo senza mai salire sul gradino più alto del podio. Alzamora esordina il moto mondiale nel 1994 in 125 su una Honda, facendosi notare nel Gran Piemia di Argentina, arrivando quinto. L'anno seguente, il 1995, arriva la prima di quattro vittorie mondiali, conquistando il gradino più alto del podio al GP di Argentina. Conquista anche un secondo posto in Catalogna e due terzi posti nei GP di Germania e Inghilterra, arrivando terzo in campionato. Il 1996 è quasi una fotocopia dell'anno precedente, conquistando la vittoria al GP di Assin, tre secondi posti nei GP di Spagna, Imola e Rio, arrivando quarto nel mondiale. Nel 1997 passa in 250, sempre con Honda, finendo con un'anonima 17 posizione in campionato, senza risultati di rilievo. Il 1998 vede il suo rientro in 125 su Aprilia. Anche qui la stagione è assolutamente anonima, arrivando ventunesimo in campionato con appena 18 punti conquistati. Ma nel 1999 accadde qualcosa di incredibile. Alzamora è assolutamente costante. Nelle prime quattro gare conquista quattro podi, un secondo posto e tre terzi posti, mentre Marco Melandri, suo principale contenente al titolo, raccoglie zero punti nelle prime tre gare per un infortunio. Arriviamo all'ultima gara stagionale, con Melandri che ha fatto un recupero incredibile con quattro vittorie, ma rimane la costanza di Alzamora, che raccoglie ulteriori tre secondi posti, due terzi posti. Nell'ultima gara disputata sul circuito Jean e Oscar Galvez di Buenos Aires, Alzamora arriva con sei punti di vantaggio su Melandri. Le Ravennate, per conquistare il titolo, deve assolutamente vincere la gara e sperare in un alleato dalle retrovie. Lo trova in prova. Il suo compagno di squadra, Azuma, infatti, conquisterà la pole. Alla partenza, Locatelli prende il comando del gruppo, seguito da Melandri e Alzamora. Vicino troviamo Poggialli, talonato da Ueda e Cichinello. Al secondo giro, Azuma cade e Melandri perde il suo alleato principale. Melandri, quindi, al sesto giro, prende il comando della corsa, seguito da Locatelli e Cichinello, con Alzamora quarto. Ma ecco la seconda sfortuna per Melandri. Cichinello, infatti, cade. Quindi comincia Melandri a girare sempre più forte, accumulando tre secondi e mezzo di vantaggio sugli avversari. Ecco, però, che Alzamora passa Locatelli, portandosi al secondo posto. Melandri, quindi, rallenta, cercando di frenare il gruppo. All'ultimo giro, Melandri, senza più armi a disposizione, aspettò Alzamora, si fece sorpassare e provò a spingere fuori lo spagnolo. Dopo il quasi contatto, Melandri torna a rallentare il ritmo, sperando che Locatelli vi raggiunga. Ma ciò, purtroppo, non avviene. Melandri, infatti, vince la gara e Alzamora vince il mondiale, senza nemmeno vincere una gara, per un solo punto di differenza. Nel 2000, Alzamora fa una delle sue migliori stagioni in 125, conquistando due vittorie, due secondi posti e due terzi posti, arrivando terzo nel mondiale vinto da Locatelli. Per le stagioni 2001 e 2002, Alzamora torna in 250, arrivando due volte secondo e due volte terzo e arrivando due volte settimo in campionato. Nel 2003, torna in 125 con la derby, ma dopo una stagione a dir poco fallimentare, si ritira dalle competizioni. E andiamo con il terzo ed ultimo pilota di questa speciale classifica, Andrew Pitt. Andrew Pitt, infatti, nasce a Kempsey, Australia, il 19 febbraio 1976. Dopo anni nelle serie nazionali, debuta nel mondiale super sport nel 2000, su Kawasaki, senza però risultati di rilievo, arrivando decimo in campionato con 60 punti. Nel 2001, fa della regolarità ancora una volta, la sua arma vincente. Sempre su Kawasaki, arriva l'ultima gara del mondiale super sport, dopo aver racimolato un bottino consistente, fatto di quattro terzi posti e due secondi posti, potendosi a giocare ancora il campionato del mondo. Kasoli, primo in classifica, ha però 11 punti di vantaggio. Al primo giro di Immola 2001, avviene un contatto tra Maggeridge e Kasoli. L'italiano avrà la peggio. Pitt, arrivando quarto in gara, diventerà infatti il campione del mondo. È il primo, infatti, nella storia delle derivate di serie. A diventare campione del mondo, Sinterberg mai vinto una gara irridata. Nel 2002, rimane nella stessa categoria, con la stessa moto. Arrivano infatti le prime vittorie, in Australia e Sudafrica, ed un secondo posto in Germania, arrivando quinto nel mondiale vinto da Fabian Foret. Nello stesso anno, arriva anche il suo debutto in MotoGP, sostituendo l'infortunato Yanagawa, sempre su Kawasaki. Nelle ultime tre gare della stagione, conquistando 4 punti. Nel 2003, la Kawasaki lo promuove al pilota titolare in MotoGP. L'anno però sarà avaro di risultati, conquistando in tutta la stagione 4 punti. A fine stagione, il divorzio quindi è inevitabile. Nel 2004, diventa collaudatore per la Moriwaki, portando in pista in MotoGP la MD211VF, prototipo della factory giapponese con motore Honda, in tre gare come Wildcard, conquistando due punti. Nella stessa stagione, corre tre gare del Mondiale Supersport, in sella all'R6 del team Yamaha Motor Italia, arrivando terzo nel GP di Asse. Nel 2005, arriva il suo debutto nel Mondiale Superbike, senza risultati di rilievo, conquistando l'ottava posizione in campionato, in sella ad una Yamaha R1, sempre nel team Yamaha Motor Italia. Per il 2006, rimane nella stessa categoria, con la stessa moto, e arriva la prima vittoria, a Misano, in gara 2. Arrivano anche due secondi posti, e tre terzi posti, finendo il Mondiale in quinta posizione. Per il 2007, accetta la sfida, accadendosi alla Ilmore in MotoGP, ritirandosi nell'unica gara disputata dalla Ilmore per il Mondiale 2007, prima del ritiro definitivo. Nello stesso anno, la Honda lo chiama a sostituire l'infortunato Charpentier in due gare del Mondiale Supersport, conquistando due secondi posti. Visti gli ottimi risultati, per la stagione successiva, il team Tenkate gli offre una CBR 600. Pitt dominerà assolutamente la stagione, vincendo 5 gare, nei GP di Australia, Olanda, Germania, San Marino e Francia, conquistando tra l'altro tre secondi posti, nei GP di Brunot, Donington e Portimao, ed un terzo posto nel GP di Brunzencio, ai danni di Jonathan Ria, che arriverà secondo in campionato. Per il 2009, rimane nello stesso team, ottenendo due secondi posti nelle prime due prove stagionali in Australia e Qatar, e la sesta posizione finale in campionato. Per il 2010, torna in Superbike, con il team Raitwagen, per i primi tre Gran Premi della stagione, prima del ritiro, per motivi di budget della squadra, e del conseguente ritiro di Pitt dalle competizioni mondiali. Troverà, nel corso della stessa stagione, una stella nel campionato britannico Superbike, guidando una Yamaha del team Motor Point. Solo per alcune gare, però. Infatti, si infortunerà alla spalla al circuito di Brunzencio. Nel 2012, annuncia il suo ritiro definitivo dalle competizioni. Eccoci qui quindi alla fine del nostro video, un pochino più breve del solito. Abbiamo raccontato le storie di tre piloti che nell'anno di conquista del loro Ingrid non hanno mai vinto una sola gara. C'è chi si è saputo confermare, come Pip, chi invece è scomparso dai radar, come Reros, chi invece è diventato un abile manager, come la Zamora. Lavorare, alla fine però, è la seguente. La costanza paga, sempre. Arrivederci, al prossimo video. A presto. 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 A presto.